La Camera Ardente di Antonio Falcogno sarà aperta domani dalle 9.30 nel presidio di San Giovanni Addolorata di Roma e l'ultimo saluto sarà dato nella Chiesa dei Santi Pietro e Marcellino in via Labicana 1 alle ore 11. Renderanno omaggio così tutti i parenti e gli amici a Antonio Falcogno, presidente della Regione Abruzzo dal 1995 al 2000, scomparso ieri. Tanti messaggi di cordoglio delle istituzioni e delle persone che rendono l'idea del valore umano, oltre che professionale, di Falcogno. Il mio dolore è grande per la perdita di Antonio Falcogno, che per me è stato un grande punto di riferimento, direi un maestro. Era la mia prima esperienza di governo quando mi chiamò, da prima degli eletti in provincia dell'Aquila, a fare l'assessore regionale. Un'esperienza che io avevo vissuto da giovane, ero la più giovane, la mascotte della giunta regionale, lui mi permise di crescere molto. Fu un grande presidente della Regione perché accompagnò l'uscita dall'obiettivo 1, quindi l'uscita dalle regioni del Sud, verso una fase di transizione che il governo non aveva previsto e quindi ce lo dovemmo conquistare. E fu lui l'artefice di questo obiettivo raggiunto grazie alle sue grandi relazioni anche in Europa e col governo e alle sue conoscenze in materia europea. Giornalista Rai, ma anche politico navigato, che ha saputo accompagnare da vicino e far crescere i più giovani. Lui mi incoraggiò molto all'epoca, mi stette vicino, mi consigliò, mi aiutò, insomma mi fece percorrere i primi passi dentro le stanze romane della democrazia cristiana e dei giovani democristiani e subito dopo anche nella mia città, nella nostra regione, sia come giornalista, all'epoca lui era un valente giornalista, era caposervizi e poi divenne caporedattore del GR2 per l'edizione del mattino, quella che curava Gustavo Selva, l'edizione più seguita negli anni 80, quella delle 7.30. E' stato un presidente molto equilibrato che tra l'altro venne eletto con una particolarità, nessuno credeva che Antonio Falcone ce la facesse. Fu un gran bel presidente perché era una persona di cultura e ha una grande passione per il proprio territorio, lui è nato a Navelli, ha avuto sempre una passione per l'Abruzzo, per l'Aquila ma cercando di far comprendere a tutti che questa non era la regione dei Campanili ma era una regione unica, una regione che si affacciava sul Mediterraneo, una regione cerniera ripeteva sempre questo Antonio Falcone, l'Abruzzo è la cerniera tra il nord e il sud. Era una persona speciale, un amico e un navellese doc che ha portato in alto l'orgoglio di appartenere a questa terra, così il sindaco di Navelli Paolo Federico. Grazie